Angelo Lombardo, 76 anni, è morto il 21 aprile scorso all'ospedale Sant'Elia. La famiglia dell'uomo, assistita dall'avvocato Giuseppe Daqui, ha presentato una denuncia ed è stata già eseguita l'autopsia mentre la procura di Caltanissetta ha aperto un fascicolo contro i gnoti. Secondo la ricostruzione della figlia, Angelo Lombardo aveva avvertito forti dolori alla spalla e alle costole. La donna ha raccontato che l'ambulanza avrebbe trasportato l'uomo in pronto soccorso a sirene spenta e procedendo ad andatura lentissima. La registrazione al triage è avvenuta alle 14.35 ed è stato assegnato il codice verde. E sempre, secondo il racconto della figlia, nonostante le visibili sofferenze, il 76enne sarebbe stato fatto entrare solo alle 16.30 in ambulatorio per la visita. A quel punto sono stati eseguiti gli esami e un'attacca dalla quale non sarebbe emersa la gravità del quadro clinico. Intorno alle 19 l'uomo, che continuava ad accusare forti dolori anche al volto e al collo, è morto improvvisamente. Grazie a tutti. Grazie a tutti.